Era diventata una persecuzione per l'ex marito, pedinamenti sfuriate, una stalking sempre più ossessiva nei confronti dell'ex coniuge 56enne. Da quando lui aveva lasciato la loro casa, una 49enne di Montagnana aveva cominciato a perseguitarlo, una presenza fissa e molesta. L'uomo ha cominciato a ritrovarsi l'ex moglie ovunque andasse, pedinamenti a piedi, in automobile, sotto casa, nei luoghi che frequenta abitualmente, addirittura nel suo negozio. Sempre più pressante, in più occasioni ha fatto irruzione davanti ai clienti, gridando e rompendo alcuni oggetti. Un'altra volta addirittura tamponato l'auto dell'uomo cercando di farlo finire fuori strada. Comportamenti che hanno spinto il 56enne a chiedere aiuto ai carabinieri che ieri hanno denunciato la donna per atti persecutori.